Anche a Peramo arrivano i primi tentativi di truffa tramite un messaggio sul telefono cellulare, diverse le segnalazioni arrivate a carabinieri e polizia postale. Messaggi all'ignaro genitore anziano di chi si finge figlio, che ha perso il telefono o che gli è stato rubato o che gli si è rotto e attraverso un altro numero inviato all'ignaro genitore comincia a chiedere denaro. Si finisce così in mano ai cybercriminali che faranno richieste di soldi, di ricariche di carte prepagate o delle credenziali per accedere a conti correnti, magari spacciandosi per gli stessi figli o per amici di quest'ultimo. La truffa, che ormai sta imperversando in tutta Italia, è arrivata anche a Teramo con svariati tentativi già segnalati. Ovviamente consigliano sempre le forze dell'ordine ebbene non rispondere a questo tipo di messaggi, un modo molto semplice per assicurarsi che si tratti di una truffa e chiamare i figli sul vero numero di telefono. Ammesso che si abbiano effettivamente dei figli, dato che questi messaggi possono arrivare un po' a chiunque, con ogni probabilità i figli risponderanno senza sapere nulla di rotture o smarrimenti di telefono e così la truffa va a monte. La polizia postale sul suo sito nazionale consiglia dunque di non rispondere al messaggio, cancellare la conversazione ed eliminare il numero della rubrica. Grazie.